C'è un filo di speranza per i due velisti italiani dispersi a largo delle azzorre lo scorso 2 maggio. I resti dell'imbarcazione a vela sulla quale viaggiamano di rientro dalla traversata ai Caraibi sono stati recuperati, ma non c'è la zattera di salvataggio, un elemento che riaccende le speranze. Tra l'altro la zattera in dotazione al Bright di 14 metri di Aldo Rivello, Spezzino e di Antonio Voinea, origini rumene ma per anni residente a Bovolenta nel Padovano, è di quelle che si azionano manualmente. Al momento dell'ultimo segnale inviato dalla barca il tempo in mare era perfetto, cielo sereno e nessuna buriana in corso. Questo presuppone che i due marinai abbiano avuto tutto il tempo necessario per andare sotto coperta, aprire la valigia con la zattera e metterla in acqua. Una zattera dotata di tutto, anche di un razzo per la segnalazione della posizione, di ami per pescare, fa sapere la moglie del belista Spezzino, che con i familiari di Antonio continua a sollecitare le ricerche. Ricerche che da 24 ore sono in corso da parte della fregata alpino della Marina Militare Italiana di Concerto con le autorità portoghesi e puntano a perlustrare i soccorritori l'area a trapezio di circa 30 miglia di estensione per lato dal punto dell'emissione dell'ultimo SOS, tenendo conto delle correnti che interessavano la zona nel momento della scomparsa. Stanno battendo palmo a palmo l'area dove verosimilmente potrebbe essere finita la zattera alla deriva. Sono ore di attesa, di ansia, di angoscia, ma anche di speranza per i cari dei due dispersi.